Era una tranquilla giornata d'estate, stavo camminando tranquillo lungo un sentiero vicino al campo di riso. Tutto a un tratto, mi accorsi che c'era qualcosa appeso a una pianta. Guardai meglio, era un ciondo. Non sapevo bene perché si trovava lì, decisi quindi di portarlo via con me. Grazie a tutti. Me l'ho messo addosso e proseguì per il mio comminio. Tutto proseguiva per il meglio. Quando a un certo punto... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dammelo. Questo qua lo tratto io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. pezzo l'ho già visto da qualche parte aspetta aspetta che cosa fermo